Nuovo cambio nella squadra di governo regionale, quando ormai mancano dieci mesi alla fine della legislatura, in giunta entrano Riccardo Marone e Gianfranco Nappi. Due assessori che possono dare un contributo importante all'attività della regione e a tutta l'iniziativa istituzionale in Campania e a Napoli. Sono Riccardo Marone, che è stato per diversi anni vice sindaco e per un anno ha svolto le funzioni di sindaco, è stato in Parlamento, è uno dei tecnici più riconosciuti in città, una delle migliori espressioni della società civile napoletana ed io sono sicuro che potrà dare un contributo di rilivo e di primo piano. Assieme a Riccardo Marone e Gianfranco Nappi, che diventa assessore all'agricoltura, tutte e due le scelte io penso che davvero rafforzano la nostra squadra regionale, che in questo modo ha esperienze più politiche, da me avvaliante, esperienze fortemente tecniche e anche esperienze di persone che hanno fatto nella vita delle istituzioni un percorso importante e significativo. Aggiungo che di fronte a noi vi sono dieci mesi di intenso lavoro, si voterà agli inizi di aprile dell'anno prossimo e dunque è importante avere dentro l'attività delle persone che conoscono bene i meccanismi istituzionali, sanno muoversi subito e Marone e Nappi da questo punto di vista danno una garanzia piena.